Manovra di bilancio 2023-2025. Il Consiglio approva maggioranza. Nella tarda serata di giovedì 22 dicembre, dopo una lunga discussione in aula, arriva il Via Libera con i voti a favore di PD e Italia Viva, contrari Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto. Il Consiglio regionale, al termine di una lunga settimana di confronto, ha approvato a maggioranza la manovra 2023-2025, che comprende bilancio di previsione, la legge di stabilità per il 2023 e collegato e la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza. Hanno votato a favore i gruppi del PD e Italia Viva, contrari invece i gruppi di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto, Toscana Domani. Nel corso delle operazioni di voto sono poi stati approvati anche una serie di emendamenti presentati da Fratelli d'Italia, PD e Gruppo Misto. La legge di stabilità per il 2023 è passata poi a maggioranza. Il bilancio passa con 37 emendamenti a firma del presidente della regione toscana, Eugenio Giani. Il maxi-emendamento del presidente della Giunta è arrivato in aula nel tardo pomeriggio di giovedì, unendo maggioranza e opposizione. Lo ha dichiarato lo stesso governatore a margine dei lavori, quale frutto di un lavoro di concertazione che raccoglie sollecitazioni trasversali e arricchisce le previsioni di intervento di spesa su una serie di settori come il sociale, la cultura e l'ambiente. Un emendamento che raccoglie ciò che sia la maggioranza sia la minoranza hanno proposto rispetto al bilancio così come presentato dalla Giunta. È un maxi-emendamento che arricchisce le previsioni di intervento di spesa della regione in una serie di settori, soprattutto il sociale, ma anche settori che in qualche modo possano affiancarsi ad essi, la cultura, tanto per fare un esempio, le questioni ambientali. E devo dire che dimostra che il bilancio diventa un atto concertato fra maggioranza e opposizione e quindi il contributo diventa un contributo costruttivo a un lavoro che la maggioranza, con molto dialogo e apertura, riesce a sviluppare. Il bilancio quest'anno è un bilancio di investimenti, 100 milioni in più nella parte corrente del bilancio a questo dedicati, la definizione di un impatto e di un impegno forte della regione per la realizzazione con 200 milioni, 195, dell'ospedale di Livorno, lo sviluppo dei lavori di potenziamento a Cisanello a Pisa, la realizzazione della Darsena Nord, della cosiddetta Darsena Europa al porto di Livorno, che consentirà un pescaggio da 12 a 20 metri, quindi tante più navi potranno attraccare, di interventi che vanno poi in modo più puntuale a coinvolgere il territorio. Io ritengo che sia molto bello che stasera si possa votare con una capacità, diciamo così, di immergere quello che è la proposta della Giunta con contributi importanti che vengono dalla maggioranza del Consiglio regionale e anche dall'opposizione. Sono state giornate lunghe, intense, con un unico obiettivo, cercare di approvare il bilancio per dare risposte alle cittadine e ai cittadini della Toscana. La necessità di non aumentare la tassazione è stata una delle scelte principali di questo bilancio. Le risorse, più di 100 milioni di euro per cofinanziare i fondi europei, questo ha ricadute nella vita di ciascuno di noi. Penso per esempio alla possibilità a partire da settembre per offrire gli asili nido gratuiti a tutte le famiglie toscane sotto i 35 mila euro di sé oppure finanziare le tante iniziative imprenditoriali che decidono di investire nel territorio della nostra regione. Un bilancio che pone l'attenzione nelle zone più periferiche. Noi ci siamo posti un obiettivo. Un bimbo che nasce nel comune più periferico della Toscana deve avere gli stessi diritti e le stesse opportunità di una bambina che nasce a Firenze. Ed è quello che facciamo con le risorse per i piccoli comuni offrendo la possibilità di sostenere le tante iniziative che ci vengono proposte dai territori sotto i 5 mila abitanti. Insomma un bilancio che pone al centro il tema della salute, della sanità pubblica, della scuola pubblica e che offre opportunità alle cittadine e ai cittadini toscani. Tratta di una manovra impegnativa perché fa fronte a quelle che sono le esigenze dei territori della comunità toscana con un riferimento anche alla legge di bilancio che è in discussione e approvazione in Parlamento che purtroppo non tratta troppo bene degli aspetti fondamentali come quelli della sanità pubblica perché se la manovra verrà approvata in Parlamento così come è stata presentata ci saranno dei tagli alla sanità pubblica e sappiamo che la sanità toscana è una delle più pubbliche che abbiamo nel nostro Paese. In realtà la manovra che è stata presentata è una manovra che dal punto dei volumi cresce siamo quasi a 12 miliardi anche in virtù di un aspetto molto positivo che sono circa 800 milioni in più che arriveranno dall'Europa per quanto riguarda la programmazione ordinaria quindi i fondi che riguardano il 21-27. Nonostante le difficoltà che ho detto l'aumento dei costi dell'energia che si aggiungono a queste difficoltà non sono previsti aumenti di tasse e questo è un altro aspetto che intendiamo sottolineare. Dopodiché con il nostro emendamento che abbiamo chiesto al Presidente abbiamo inteso anche migliorare questa manovra su alcuni aspetti che per noi sono fondamentali perché come abbiamo sempre detto il lavoro, la salute, il sociale, gli investimenti sono le nostre priorità. Un atto importante nel quale Italia Viva è stata protagonista dell'approvazione dell'atto più importante della Giunta regionale il Consiglio approva un bilancio che mette risorse importanti per le infrastrutture scolastiche per la cultura, per gli invasi, per i comuni tante questioni che vengono affrontate asili gratis per i bambini in famiglie fino a 35 mila euro risorse per famiglie che hanno dei minori disabili risorse aggiuntive per RSA e RSD una manovra che è sociale, che è economica che alla fine si chiude non aumentando le tasse così come te l'aveva chiesto non viene aumentato il bollo non vengono aumentate le addizionali IRPEF e soprattutto i comuni trovano risposte importanti penso a dei comuni che avevano sollecitati interventi storici penso a Marradi dove si può fare lo svuotamento di un invaso penso a Bagnarri per rispetto a interventi infrastrutturali penso anche a Castrina Inchianti rispetto a iniziative finalizzate allo sport nel contempo altri comuni come Mulazzo altri comuni importanti ovviamente come Pistoia ma nello stesso tempo anche realtà importanti nell'area di Pistoia, nell'area di Pisa nel ritrovamento che abbiamo chiesto con forza a Ponsacco rispetto a una soluzione di problematiche di carattere abitativo e poi risposte infrastrutturali che vanno per tutta la Toscana in termini culturali e sociali credo un bilancio positivo che consolida la maggioranza di governo Piedite e Raviva hanno ritrovato un accordo nel metodo del lavoro un sostegno al Presidente Gianni per arrivare a metà mandato più forte di come siamo entrati in queste esperienze La posizione del nostro gruppo è un appello al Presidente Gianni nel senso di responsabilità, nel senso di collaborazione anche con le opposizioni un bilancio arrivato in Consiglio regionale all'attenzione del Consiglio regionale soltanto dieci giorni fa un bilancio importante, un collegato importante una legge di stabilità importante e non si può accettare che l'opposizione abbia soltanto dieci giorni per analizzare la manovra più importante dell'anno noi abbiamo chiesto rispetto delle regole rispetto del nostro regolamento del nostro statuto perché il nostro lavoro di garanzia, di controllo il ruolo che hanno scelto per noi i cittadini toscani merita rispetto quindi noi siamo disposti anche a concludere la nostra battaglia con la miriade di emendamenti e ordini del giorno che abbiamo presentato soltanto che oltre all'attenzione ulteriore verso i disabili Maggiani faccia un'ammenda e dica al Consiglio regionale che da oggi in poi il lavoro del Consiglio sarà nel rispetto delle regole nel rispetto e in garanzia soprattutto delle opposizioni altrimenti continueremo la nostra battaglia Per quanto ci riguarda pur cercando di tenere un clima collaborativo all'interno della seconda commissione cercando di togliere per quanto è più possibile la retorica classica dell'antagonismo, opposizione e maggioranza ci aspettavamo da questa manovra molto più chiarezza un disegno, una strategia e anche un po' di coraggio le materie che sono all'ordine del giorno della seconda commissione risentono moltissimo di tutto quello che sta accadendo dell'inflazione, del post-covid della crisi energetica della guerra in Ucraina del rincaro dell'energia tutto chiaramente va a pesantire molto quelli che potevano essere gli interventi sulla seconda commissione però appunto ci sembra che manchino due cose manca una risposta, manca una risposta chiara e manca chiaramente una risposta che fosse energica fosse in grado di liberare le energie invece in tutti i settori dal turismo all'agricoltura passando per il commercio e per l'artigianato nonostante questo chiaramente chiaramente non ci sentiamo smentiti perché le incertezze sul futuro di sviluppo toscana che in questi giorni abbiamo risentito in aula per non parlare del fallimento pressoché completo della tabella di marcia sul PNRR non è che ci gratificano siamo fortemente preoccupati quindi cosa potevamo fare? di più? Assolutamente forse no potevamo fare un pochino prima e sicuramente molto meglio io credo che con questa legge si capisca ancora più chiaramente quanto il presidente Gianni stia cercando di accentrare le risorse e il controllo su queste risorse nelle mani della giunta innanzitutto potenziando sviluppo toscana il che potrebbe anche essere una cosa favorevole se nel frattempo non si danneggiasse invece Fidi Toscana che da essere un soggetto importante per la regione adesso è in fase di smembramento e cessione praticamente questo da tempo nonostante nel programma del presidente ci fosse ben altro tre anni fa e innanzitutto poi la creazione di questo CDA ci sono dei passaggi di possibili illegittimità un CDA nominato interamente dalla giunta quando tutti sanno invece che alcune nomine vengono fatte anche dal Consiglio regionale e anche dalle opposizioni controllo su milioni di euro che specialmente al fronte del nuovo settennato dell'Unione Europea e a fronte degli investimenti che verranno fatti in Toscana significano una sola cosa che il presidente Gianni vuole controllare tutto ciò che ha a che fare con l'economia compreso anche il sostegno alle categorie economiche quindi tutto deve essere nelle sue mani in una sorta di accentramento che è cominciato in realtà già da tempo ma che lui sta rafforzando ancora di più grazie a tutti